e pianificazione progettuale di Massima che prevedesse intanto degli obiettivi ben precisi sulla città di Santa Croce Camerina e quindi valorizzandola per la collocazione anche geografica rispetto ai comuni vicinori dove raggiungere un istituto scolastico il più vicino è a circa 16-17 km che sono quelli di Vittoria, 24 per quelli di Ragusa, ancora più lontani quelli di Scicli, Modica e di Pozzallo. Si avviò un procedimento dove fu fermato direttamente al cambio assessoriale con l'assessore Cugnata quando si rifece il piano triennale delle opere pubbliche dove per motivi proprio prettamente economici e per non un intervento immediato della costruzione si evidenziava un'altra esigenza che mettevano da parte proprio la scuola media superiore. In sede di consiglio provinciale un emendamento fatto dal sottoscritto ma chiaramente condiviso da una maggioranza intera che rispettava la cittadina di Santa Croce per il lavoro fatto dall'assessore Terranova, rimise di nuovo nel piano triennale delle opere pubbliche annualità 2010-2011-2012 la costruzione della scuola media superiore a Santa Croce Camerina. L'assessore Giampiccolo aveva un'idea tutta sua ma strana, cioè costruire la scuola con dei prefabbricati modulari dove mettendole assieme avrebbe potuto arrivare immediatamente a quelle che erano le esigenze derivanti dal comune di Santa Croce Camerina. Io avevo un'idea diversa che è quella che poi ho sposato con l'assessore Terranova perché la sicurezza dei nostri concittadini, dei nostri alunni prevale a qualsiasi tipo di esigenza. Dicevo questo all'assessore, se il comune di Santa Croce Camerina non ha una struttura affittiamone una ma diamo dignità e decora a quello che è in questo momento anche l'obiettivo primario che è quello di valorizzare l'alunno per gli studi che dovrà conseguire. Quindi l'assessore Terranova su questo ha fatto non bene, ha fatto benissimo ad attivare tutti i percorsi per la costruzione di una scuola media superiore. Il problema è che in tanti pensano che è meglio l'uovo oggi che la gallina domani. No, no, io penso che in questo momento, se proprio su queste metafore dobbiamo un po' confrontarci penso che è meglio avere una gallina che ci continua a fare delle uova ma che siano delle uova che si possano mangiare anziché avere delle uova che chiaramente non riescono neanche a fare bene una frittata. E di frittate ultimamente per le scuole se ne sono accadute tantissime non verremmo assolutamente che accadessero non soltanto in questo lembo di Sicilia ma neanche in nessuna parte d'Italia. In particolar modo a stare a l'Ufrica Merida. E aule sovraffollate, sciopere, discussione, strutturali ed edifici che... Quello che riguarda, quello che poi risponde chiaramente all'assessore perché ne è più competente, quello che riguarda invece i campetti, i campetti sportivi, sono dei campetti che semplicemente sono arrivati fuori da dei progetti che ha l'assessore Carpentieri dove dei fondi proprio di risparmi derivanti dagli avanzi di amministrazione che ammontano circa 560 mila euro venivano ripartiti per i 12 comuni in 12 campetti diversi. Il costo di un campetto non supera assolutamente quelli che sono i 35-40 mila euro quindi se ne possono fare ancora di più rispetto a quelli già progettati e messi in cantiere proprio perché sono dei campetti che non hanno bisogno, sono dei campetti in sintetico che non hanno bisogno assolutamente di manutenzione nel momento in cui è ceduto il terreno vengono realizzati in modo talmente semplice dove apporre le porte, apporre l'erbetta simpedica apporre tutte quelle cose necessarie e fondamentali per realizzare un campetto vengono in modo semplice la loro realizzazione. Non è una scuola, il campetto sintetico non è una scuola la realizzazione di una scuola che ha bisogno di tante energie non soltanto di tecnici adeguati al settore ma soprattutto di risorse economiche fondamentali e necessarie alla riuscita di questo e quindi evidentemente non è una priorità fare i campetti il campetto è la cosa più semplice che si possa realizzare e nel momento in cui si arriva ad una progettazione esecutiva c'è l'immediatezza nel realizzarlo il terreno, la scuola media superiore che poi è stata allocata in un terreno io vorrei correggere qualcuno perché a volte la confusione di qualche assessore del comune di Santa Croce e Camerina pur avendo nelle competenze e pur sapendo qual è la storia non è stato regalato alla provincia perché il terreno è della regione siciliana che è ceduta al comune di Santa Croce e Camerina si è realizzato un intervento nel bene dell'interesse agricolo quale la nuova sezione operativa numero 35 chiamata oggi in un altro modo e l'altra parte del terreno sempre della regione siciliana è stato dato al comune di Santa Croce e Camerina per poterlo cedere e poi sempre per altre attrezzature ma un'attrezzatura che non è più un'attrezzatura diventa una struttura che è un'esigenza a tutti gli effetti di questa comunità quindi detto questo c'è una grande differenziazione su quelle che sono delle opere pubbliche facilmente realizzate a proposito di questo un ascoltatore ci ha suggerito anzi afferma che con 40.000 euro si potrebbe realizzare un campetto è plausibile questa cosa e non si trova una 40.000 euro molto di meno, infatti è in progettazione un campetto all'incirca vengono a costare dai 30 ai 35.000 euro quindi ancora meno delle 40.000 euro completi, forse completi anche di sfogliatoi addirittura semplicemente quindi non è che se ne potrebbe fare uno ma infatti l'assessore campettiere ne ha previsti 12 per i 12 comuni e nelle città più grosse qualcuno e più ma si faranno questi campetti? si faranno, si faranno, sono già stati pianificati nei 12 comuni mi sembra che l'assessore abbia fatto il giro di tutti i comuni non soltanto promettendo ma facendosi anche indicare quelli che sono anche i luoghi dove poterli allogare aggiungo una cosa anche abbastanza importante questo dipenderebbe a tutti gli effetti dei playground perché io ritengo sempre che è un campo noi abbiamo tantissime attrezzature sportive vorrei che voi mi seguisse in questo passaggio dove attrezzature sportive sono tutte assegnate alle società sportive oggi un bambino così come eravamo una volta abituati noi ad andare nei luoghi più vicini a giocare o in mezzo alle strade questi playground che dovrebbero servire alla cittadinanza per poter far giocare i propri figli non debbono essere delle strutture a mio avviso cedute ad associazioni, ad ente o ad associazioni sportive o anche al comune stesso debbono servire per la città per le esigenze reali che è la città ovvero per evitare che ci siano devianzi giovanili che non sono le società sportive a poterle attutire ma è la società stessa la società intendo i cittadini stessi a poterne fruirne come un uso proprio di qualcosa che è patrimonio proprio perché quando viene realizzata una struttura non è che la struttura è dell'amministrazione o di Riccardo Terranova che ci ha lavorato la struttura è patrimonio della città e quindi dei cittadini vorrei far passare questo principio che credo che sia oggi fondamentale per far capire a tutti per far capire a tutti che quando viene realizzata una struttura come questo campetto al centro della città non sappiamo quale sia stata l'allocazione data dall'amministrazione comunale di Santa Rocia perché è stata data però credo che l'abbiano già prevista senza magari consultare nessuno ma l'hanno sicuramente prevista ma credo che sia qualcosa che dovrà andare a favore della città quindi dei cittadini, dei bambini ma soprattutto di quelle famiglie che magari in qualsiasi particolare momento della giornata possono usufruirne e proprio andarci, visitarla stare qualche ora in più perché questo poi significa alla fine partecipare alla vita della città cioè usufruire dei beni, dei patrimoni della propria città per farne un uso proprio e non un uso improprio così come viene fatto oggi tutte le strutture che noi abbiamo sono assegnate a società sportive e se io qualche sera dovesse decidere di andare a fare una partitella deve passare il permesso a qualcun altro ma devo perfino pagare quindi immaginate ancora qualcuno dei nostri ascoltatori vi devo salutare e ringraziarvi per l'invito presentiamo una squadra di seconda categoria oggi e stasera a Ragusa quindi vedo che l'invito ad un consigliere provinciale è una forma di rispetto che la società sportiva ragusana è nei confronti di magari di un esponente se non ne dispicco ma a livello provinciale credo che per me è un piacere è un onore poter presentare una squadra ragusana in seconda categoria ok grazie tante ti ringraziamo ancora una volta per la tua disponibilità e presenza sei stato per quanto possibile esaustivo nelle cose che ti abbiamo chiesto e ti salutiamo e adesso c'è un po' più di spazio per interloquire con i nostri ospiti esterni dicevo prima che Salva mi interrompesse che uno dei nostri ascoltatori ha cercato di fare un parallelo fra quello che si realizza in tempi rapidissimi al nord Italia e purtroppo le lentezze che poi ci sono qua da noi ma non da noi a Ragusa ma diciamo in generale nel mezzogiorno d'Italia perché queste se è vero che è così ci sono queste queste differenze intanto io dalle notizie che ho non c'è una distinzione netta cioè lo stereotipo o il luogo comune della differenza tra nord e sud ovviamente lo possiamo condividere ma fino a un certo punto di fronte a procedimenti che si svolgono nella medesima maniera non penso che ci sia una differenza tra nord e sud ma quanto una differenza fra amministrazioni e amministrazioni o amministratori e amministratori o se vogliamo anche ad una mancata o esistente sinergia fra politica e apparato burocratico quindi per quanto mi concerne e per l'esperienza che ho e per quello che posso dire la provincia di Ragusa oltre che ad essere stata amministrata devo dire con il criterio cosiddetto il classico criterio del buon padre di famiglia dalla parte politica si può avvalere si può avvantare di avere un'ottima classe dirigente quindi un ottimo apparato burocratico degli ottimi funzionari e ottimi progettisti per quanto mi concerne perché mi occupo di edilizia quindi noi riusciamo a risolvere problematiche anche in tempi celere in funzione appunto della problematica stessa proprio perché ci programmiamo in modo tale di affrontare anche la criticità quando queste sorgono così in modo imprevisto faccio un esempio per tutti si è fatto un gran parlare in modo sicuramente artefatto ed esesperando i contenuti ed esesperando anche e strumentalizzando anche gli studenti del liceo scientifico di Modica si è parlato di classi pollaio si è parlato di classi 50 e più unità ma è assolutamente una notizia falsa creata ad arte per creare al solito allarmismo perché forse i mediali in questo si ci differiamo dai settentrionali cioè siamo bravi a buttarci fango da solo addossi la vicenda del liceo scientifico di Modica è stata montata da personaggi politici che fanno politica attiva militanti eletti nel consiglio comunale di Modica la classe cioè l'accorpamento di due classi è stata un ripiego momentaneo di soli tre giorni per una questione di carenza di organico quindi nulla che possa essere quindi non c'entra niente con la struttura ma è già previsto e preordinato e il problema è stato affrontato e dal punto di vista dell'organico e che non compete alla provincia l'organico ma provvede ovviamente ad altre istituzioni e dal punto di vista è stato risolto logistico perché come provincia siamo intervenuti immediatamente e già la settimana prossima quindi in tempi rapidissimi la ditta incaricata dalla provincia realizzerà dei lavori di abbattimento e di comunque di realizzazione di nuove aule capaci di ospitare quel numero di studenti che possano far rientrare il tutto nei parametri di legge quindi saranno create tre aule da 65 metri quadrati in tempi brevissimi ho già preso impegno pubblico anche di fronte al prefetto perché il prefetto giustamente si è allarmato e ha voluto che noi lo informassimo della Volpes ho informato quindi non possiamo né ovviamente dare notizie non realistiche non veritiere all'opinione pubblica né tantomeno al rappresentante dello Stato che è il prefetto in provincia un bel giro un bel giro che forse non so se al nord riescono a farlo quindi ogni tanto cerchiamo di non piangerci addosso ma cerchiamo di casomai di vedere intanto di chiederci cosa noi possiamo fare prendere come spunto le eccellenze del nord ma non trascurare il fatto che anche nel sud anche nella nostra zona ci sono sicuramente cittadini persone amministratori professionisti che sono assolutamente in gambe assolutamente nelle condizioni di poter affrontare i problemi tanto come li affrontano quelli del nord quindi sotto questo profilo mi sento assolutamente tranquillo perché abbiamo una provincia assolutamente in sintonia col territorio sotto ogni profilo per quanto mi concerne con la pubblica istruzione siamo nelle condizioni di poter onorare gli impegni assunti e laddove c'è qualche ritardo perché ovviamente la perfezione non esiste non è dovuto alla mancata volontà o del politico amministratore o dell'apparato burocratio ma quanto alle procedure di legge perché per acquistare anche una sedia io devo seguire una procedura quindi non è il privato che esce manca la sede e vado dal negoziante e se la va a comprare una procedura quindi per quanto riguarda per esempio l'arredo scolastico stiamo effettuando un reperimento di fonti e immediatamente dopo ma già nell'arco di qualche mese appena avremo il via libera per svariate decine di migliaia di euro e acquisteremo arredo scolastico